Già si parla delle future elezioni qui a Milano e diciamo che tutti i partiti del centro-destra rivendicano il proprio candidato. Secondo lei qual è il profilo ideale per la città di Milano? Intanto è che il centro-destra si ponga con una proposta politica chiara, innovativa, capace di ritornare a governare questa città. Prima che individuare il candidato dobbiamo essere in grado non solo di ricordare quanto abbiamo fatto grande questa città, quando il centro-destra è governato nel passato, ma che Milano vogliamo nel futuro. Una Milano che attrae gli investimenti, ma anche una Milano capace di accogliere, non di espellere le giovani famiglie, non guardare alla sicurezza dei quartieri periferici. Credo che questa sia la sfida che abbiamo e poi saremo, come abbiamo sempre fatto dappertutto, capaci di scegliere molto prima delle altre volte un candidato che esprima questa visione politica.